Nulla di fatto nell'attesa assemblea dei soci dell'Aquila Calcio, che avrebbe dovuto approvare il bilancio. I soci chiedono tempo, evidentemente, e la pazienza dei giocatori, che il primo dicembre potranno svincolarsi, comincia a vacillare. A parlare per tutti è stato l'avvocato Tiberio Gulluni, incaricato da Massimo Mancini. A lui il compito di mediare tra vecchi e nuovi. L'unico impegno preso, però, ad oggi, è quello di trovare una soluzione in un modo o nell'altro entro il 30 novembre, per rispetto di giocatori, mister, staff e collaboratori. La trattativa con Fioravanti, Gizzi e Pensi sembrava ad una svolta la scorsa settimana, con il futuro presidente che addirittura aveva parlato con la squadra, ma, a quanto pare, le richieste sono le medesime di agosto, il risanamento dei debiti su base pluriennale. L'ipotesi del concordato pare non sia piaciuta ai nuovi e, dunque, Corrado Chiodi e compagni, potranno anche avventurarsi nella gestione della stagione fino a giugno, ma a che prezzo? Si parla di un taglio nella squadra, voci ovviamente non confermate, che smantellerebbe un progetto tecnico vincente e che getterebbe ancora più nubi sulla vecchia proprietà. Su una cosa tutti unanimi, nessuno vuole far fallire la società, ma intanto i giocatori attendono da due bensi gli stipendi e il 30 si avvicina. L'avvocato Gulluni ha spiegato che si sta lavorando ad una revisione delle poste di bilancio, un'ulteriore ricognizione per vedere come si può alleggerire il passivo. Ranucci sfiduciato? Neanche a pensarlo, anche se alcune voci lo avevano fatto intuire. Ranucci, ha spiegato l'avvocato di Mancini, ha solo detto di essere stanco e ha chiesto ai soci aiuto e sostegno. Tutto questo mentre mancano i soldi anche per la gestione corrente, in uno scenario nel quale i tifosi ormai pagano trasferte e fanno la spesa ai giocatori, che in campo li ringraziano vincendo. Surreale! Un'altra parola per definire la situazione purtroppo non si trova.